Buongiorno, sono Giussi Barbara, ginecologa della clinica Mangiagalli e nel prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club, che in realtà è il secondo incontro dedicato alla gestione clinica dei fibromi uterini, dal titolo Questione aperte e una lezione da ricordare, affronteremo insieme alla dottoressa Facchin, che è ricercatrice in psicologia presso l'Università Cattolica di Milano e alla dottoressa Laura Bugio, ginecologa in Mangiagalli, degli aspetti estremamente peculiari nella gestione clinica della donna con fibromi uterini. In particolare affronteremo aspetti legati all'impatto sulla salute mentale, su aspetti psicologici e sulla sessualità in una donna con fibromi uterini. Sappiamo che soprattutto negli ultimi anni vi è stato un enorme interesse nei confronti della sessualità e nei confronti di aspetti relati alla qualità della vita, come alcune disfunzioni sessuali, alcuni disordini di natura psichica e sappiamo bene come alcune malattie ginecologiche per tutta una serie di motivi, per motivi ormonali, per motivi biologici o per fattori psicologici che possono influenzarsi vicendevolmente, possono avere un grosso impatto sulla qualità della vita della donna. Come terzo aspetto verrà affrontato il capitolo della terapia medica dei fibromi uterini, in particolare la storia di un farmaco, l'ulipristallo acetato, che è stato molto dibattuto negli ultimi anni. Grazie. 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 Grazie.